È importante chiudere bene il discorso già da questa partita, certo non è facile perché comunque incontreremo una squadra molto tosta, però abbiamo il fattore campo, giochiamo in casa, siamo in Italia, quindi sicuramente cercheremo di dare qualcosina in più anche se magari abbiamo speso tanto nella partita scorsa. Nell'ipotesi il mister cambia un po' il modo, bisogna vedere gli avversari, non penso che sia un discorso di fatica generale della squadra, certo abbiamo avuto pochissimo tempo per recuperare, ripeto siamo solo in inizio del campionato, recuperare bene le forze, però visto questi pochissimi giorni il gruppo è recuperato bene e sono convinto anche per la prossima partita di essere in formato. Ogni volta che si scende in campo c'è un'emozione, una voglia di tirare fuori da ognuno, dentro di ognuno qualcosa in più, giocare allo stadium con la maglia della nazionale è un'emozione ancora più unica perché non c'è mai stato nessuno, siamo i primi noi e speriamo di inaugurare nella miniatura dei modi. Battuta su Buffon, la sua festa, sei raccomandato, mi raccomando ragazzi, partimi tranquillo. No, non ne abbiamo parlato, però speriamo di festeggiare tutti quanti insieme la festa di Gigi e la festa dell'Italia interna. Stiamo facendo grandi cose, ora speriamo martedì ottenere il risultato per poi stare tranquillo. Io sono già contento di essere nel gruppo, poi se in più il mister ha queste parole d'affetto nei miei confronti ancora di più contento.